... Martedì 3 febbraio, ore 12, prosegue con tanti ospiti e anche tanti collegamenti. Dovremmo avere quello a cui abbiamo accennato poco fa con Via Brescia, dove c'è Federica Priori per un aggiornamento su questi importanti lavori. Attesissimo il sottopasso. Eccoli! E' addirittura dotata di elmetto. Federica? Eh, buongiorno, sì, Giovanni, Cristina, stavolta ci siamo davvero. Lo dicevate, sono stata munita di elmetto, giustamente bisogna rispettare le norme di sicurezza. Siamo infatti in cantiere, un cantiere un po' particolare in questo preciso momento della giornata, perché è il momento di pausa e quindi è tutto tranquillo in modo quasi surreale. Noi però abbiamo un ospite che ci aiuterà a capire quali sono i lavori invece proprio di cui c'è fervi d'attesa e quindi il cantiere sarà in ampio movimento nel weekend. Presento subito il mio ospite, l'ingegnere Marco Grassi della Direzione Lavori Centro Padane, che per conto del Comune ha seguito questi lavori e non solo, lo avevano già fatto anche per quanto riguarda i lavori nel quartiere di San Felice e anche per il sottopasso di Via Persico. Buongiorno, innanzitutto insomma questo 6, 7 e 8 febbraio, che cosa ci attendiamo? Il 6, 7 e l'8 abbiamo l'evento Clou per quanto riguarda il sottopasso di Via Brescia. Infatti avremo a partire da venerdì sera l'interruzione della linea ferroviaria con tutte le opere propedeutiche per iniziare domenica mattina con il varo vero e proprio dell'impalcato che scenderà dalla rampa di varo che vedete alle nostre spalle predisposta per portare giù questo impalcato. Inizieranno le lavorazioni alle 22 di venerdì sera e si interromperanno domenica sera sempre alle 22, tutto questo in continuità per 48 ore, tutto quanto organizzato sempre con RFI che ci ha concesso l'interruzione della linea ferroviaria. Ecco ingegnere, abbiamo ricordato prima durante la pubblicità di ore 12 quali sono state le tappe che hanno portato a questo momento chiave. Innanzitutto i lavori incominciati l'estate scorsa, la fine è prevista per la primavera, mi diceva che il cronoprogramma è sostanzialmente stato rispettato però ci sono state, come in ogni lavoro, anche qualche criticità che avete riscontrato. Sì, le problematiche principali che abbiamo avuto sono state la presenza in primis del cavo Robecco, un manufatto realizzato intorno alla metà degli anni 70 che ha vincolato molto gli spazi di lavoro in cui è dovuto operare la Beltrami. Oltre a cavo Robecco poi abbiamo gli edifici limitrofi che hanno ristretto di molto i luoghi in cui si è potuto intervenire e questo ha vincolato le lavorazioni in un poco. Ecco intanto se vuole dire qualcosa ai telespettatori proprio sull'impalcato che è quello che andrete a spostare e come è già stato fatto ricordiamo in via Persico, esattamente lo stesso metodo. Esatto, le modalità di Varo sono esattamente uguali a quelle di via Persico, abbiamo questo impalcato realizzato fuori opera che verrà sollevato e spostato da carrelloni che si sposteranno lungo questa rampa di Varo in maniera molto lenta e con molta cautela sposterà l'impalcato e lo posizioneranno lungo la linea ferroviaria. Grazie ingegnere per il suo tempo. Giovanni, Cristina, se avete domande da studio siamo a disposizione. Ma Federica mi vengono in mente che ci sono sempre quei gruppi di anziani che stanno lì ad osservare i lavori pubblici e commentano, fanno quei commenti spesso assolutamente improbabili e quindi con la nostra prospettiva da qui un tipico commento potrebbe essere ma ci sembra un po' stretto sto sottopasso? Ci rassicura l'ingegnere? Ecco, mi chiedevano rassicurazioni da studio insomma sulle dimensioni del sottopasso dicono che sembra un po' stretto e curiosamente dicono ci siamo messi nella posizione nell'ambito dei commenti così del gossip che fanno tendenzialmente insomma i gruppetti di curiosi che si affacciano al cantiere che insomma con quello spirito quindi insomma senza troppe critiche però diciamo una domanda per capire le dimensioni ecco di questo sottopasso. Sicuramente il sottopasso è molto più piccolo diciamo così rispetto a via Persico le motivazioni sono state due la presenza del cavo Robecco come dicevo prima che ne ha limitato la larghezza poi abbiamo anche un altro cavo che è il cavo Cerca che si trova all'inizio della rampa sud di questo sottopasso che ne ha vincolato l'altezza perché è stato un punto fermo da cui poter iniziare con la rampa di discesa e questo appunto ha comportato un'altezza molto più bassa rispetto a quella di via Persico e quindi ci sarà una limitazione mi diceva poi Giovanni che è un collega appunto da studio ci sarà una limitazione quindi per il passaggio dei veicoli ecco no appunto se ci sarà un po' di limitazione da questo punto di vista le limitazioni le avremo di sicuro perché con un'altezza netta molto ridotta non potranno passare pullman o comunque furgoni piuttosto alti infatti verrà per disposto un portale che farà da sagoma di limitazione i veicoli che entreranno nel sottopasso ecco poi Giovanni l'ingegnere ci ha detto che è anche ancora al vaglio del comune proprio per queste ed altre problematiche tutto il discorso della viabilità quindi per adesso non sappiamo ancora dirvi esattamente come sarà sarà un senso unico insomma come saranno le direzioni quello lo scopriremo nei prossimi mesi ricordiamo la fine lavoro è prevista entro la primavera benissimo grazie grazie e buon lavoro naturalmente agli ingegneri di centro padane grazie Federica Priori ti ritroveremo nella telegiornale delle 13.30 salutiamo allora tutti anche gli operai tutti i lavoratori impegnati nell'importante cantiere di via Brescia che tante discussioni confronti ha sollevato